Il sushi, l'antica specialità nipponica tanto apprezzata da grandi e piccini, che ha conquistato gli abruzzesi, arriva direttamente a casa tua con la nuova iniziativa del quotidiano Il Centro. Il sushi fatto in casa, 30 ricette colorate, accattivanti e facili. Sabato 29 maggio, il regalo con il quotidiano Il Centro. Il Centro